Vi facciamo scoprire il territorio della Valcamonica, dove sorge il caseificio sociale di Valcamonica e Sebino. Siamo a Bienno, comune della Valcamonica appunto, e da qui parte la nuova edizione di Travel News 24. La Valcamonica con i suoi centri storici. Qui siamo a Bienno, guardate che scorci caratteristici che presenta. Io adesso vi porto però al castello di Gradara. Il castello di Paolo e Francesca si trasforma nel castello di Natale. La fortezza è quella di Gradara, in provincia di Pesaro, che ha fatto da cornice la storia dei due amanti descritti anche da Dante. Il periodo natalizio è un'occasione davvero particolare per visitarlo. Il castello e tutto il borgo si animano infatti di musica, mercatini e spettacoli, diventando appunto il castello di Natale. Una festa che inizia già dal 26 novembre e andrà avanti fino all'8 gennaio. Tutti i dettagli si trovano al sito www.gradara.org. E allora andiamo a visitare tutti quanti il castello di Gradara, andiamo! Io continuo ad essere all'interno dello spaccio qui a Capodiponte, del caseificio di Valcamonica e Sebino e vi porto a Gallarate. Complano speciale per il Maga di Gallarate. Il museo in provincia di Varese è diventato negli anni punto di riferimento per l'arte contemporanea, compie infatti 50 anni. L'anniversario è festeggiato con la mostra Ritmo Soprattutto. Oltre 200 opere documentano il percorso che ha portato alla formazione delle collezioni del museo. Un viaggio per immagini, insomma, che illustra il lavoro di ricerca artistica portato avanti dal Maga dal dopoguerra fino ad oggi, in programma fino al 5 febbraio. Vi ricordo che lo spaccio è aperto tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio e il lunedì pomeriggio. Allora, mentre io sto guardando per scegliere cosa prendere, vi porto in campagna. Come in un film di Indiana Jones, parliamo delle visite alle grotte di Pertosa a Uletta. Si trovano una quarantina di chilometri da Salerno e si estendono per circa 3.000 metri nel massiccio dei Monti Alburni. A loro interno, ed è questo che le rende particolari, nascondono un fiume sotterraneo navigabile, il fiume Negro. In barca si va così alla scoperta del mondo del sottosuolo, fatto di piccole cascate d'acqua, stalattiti e stalagmiti di ogni forma e dimensione. Ho deciso, prendo tutto. Da questi splendidi luoghi è tutto, mi raccomando inviateci le vostre segnalazioni a redazione chiocciola travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.